Salve a tutti cari amici e benvenuti in questo nuovo video, un video che ci esporrà, anzi che mi esporrà a delle probabili accuse di l'esa maestatis perché prenderemo in considerazione intanto uno dei grandi, dei più importanti diciamo amori letterari di ogni tempo quello fra Dante e Beatrice e vedremo in questa storia quanto sia stato importante un certo intento, una certa diciamo lungimirante operazione letteraria editoriale da parte di Dante soprattutto cercheremo di decifrare quelli che sono stati i rapporti tra Dante e quella che De Jure è stata la donna della sua vita cioè la moglie Gemma Donati andiamo per ordine beh intanto quando ci riferiamo a Beatrice dobbiamo distinguere naturalmente come spesso accade per gli amori letterari tra la figura reale e quella sublimata e quella la figura letteraria la figura reale è Bice di Folco, figlia di Folco Portinari la cui esistenza terrena si colloca tra il 1266 e il 1290 circa Bice apparteneva a una famiglia di banchieri che abitava nello stesso sestiere, cioè nello stesso quartiere di Dante i due erano vicini di casa, sappiamo che Dante era molto amico del fratello di Beatrice, Manente e sappiamo poi che Beatrice venne maritata, utilizziamo i termini desueti venne maritata a Simone De Bardi appartenente a una famiglia molto illustre ancora più ricca dei Portinari pensate solo che nel corso del 300 la famiglia De Bardi commissionò gli affreschi di Santa Croce a Giotto e morì a circa 24 anni, intorno al 1290 probabilmente di parto questa è la vicenda, diciamo la figura storica, terrena di Bice Portinari noi la conosciamo nella sua trasfigurazione letteraria nel senso che Bice diventa Beatrice intanto, colei che è beatifica nella vita nuova diventa diciamo il tramite tra la terra e il cielo e nella commedia diventa addirittura l'allegoria della scienza per eccellenza, la teologia quello che tuttavia ci sfugge è che la trasformazione, la sublimazione letteraria di Beatrice corrisponde a una straordinaria operazione oltre che letteraria naturalmente editoriale portata avanti da Dante quali sono le motivazioni, diciamo che le rime, le liriche diciamo dedicate a Beatrice scritte da Dante a partire dagli anni 90 del 200 corrisposto ora ad un grandissimo strepitoso successo di pubblico pensate che nel 1292 un notaio fiorentino che trasferitosi a Bologna per motivazioni di lavoro le trascrive qualche verso di donne che avete intelletto d'amore quindi a testimonianza di quanto grande sia stato il successo delle liriche, delle rime dedicate a Beatrice quasi ecco, l'eco di questo successo è paragonabile alle canzoni di musica leggera ai pezzi in hit parade, ai tormentoni, ecco diciamo così quindi a partire da questo grandissimo successo di pubblico Dante cosa fa? Dante torna indietro e trasfigura quella che probabilmente non lo mettiamo in dubbio è stata una cotta giovanile per una ragazzina che abitava nel suo stesso quartiere la trasfigura quasi in senso mistico addirittura andando a ritroso Dante cosa fa? Rilegge il suo incontro o meglio i suoi incontri con Beatrice trasfigurandoli addirittura secondo delle precise simbologie o numerologie, per esempio quella del 9 nella vita nuova il primo incontro tra i due viene collocato nel 1274 quando entrambi che sono coetanei avevano 9 anni e soprattutto poi c'è l'incontro successivo che si data esattamente 9 anni dopo un incontro in cui Beatrice che è già sposa di Simone Le Bardi accompagnata così come si conviene ad una giovane sposa da due donne più anziane incontra Dante in giro per Firenze e lo saluta dimostrando il saluto secondo le teorizzazioni dell'amore cortese dell'epoca significa che ricambia che Beatrice ricambia il sentimento del poeta cioè ne ricambia i sentimenti che la vicenda sia una trasfigurazione appunto in senso mistico una sublimazione al massimo diciamo di incontri che magari a livello biografico sono stati reali lo dimostra anche una lettura contestuale di trattati come il De Amore di Andrea Cappellani in cui per esempio si legge che a parte diciamo gli stilemi del saluto a cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi si legge anche che si diventa amanti a partire dal bisogna avere 18 anni prima di poter sperimentare diciamo l'amore in questo senso cortese, letterario quindi siamo di fronte sicuramente ad una trasfigurazione del dato reale ma soprattutto sappiamo che diciamo che Dante non scrisse versi d'amore solo per Beatrice sia prima della redazione della Vita Nova che si colloca tra il 1292 e il 1294 prima della redazione appunto di quest'opera immortale di questo eterno, sempiterno canto d'amore dedicato a Beatrice Dante scrisse dei versi d'amore per almeno altre due donne secondo gli stilemi le caratteristiche di quello che lui stesso nel 24esimo canto del purgatorio definisce dolce stil novo anche se poi successivamente Dante ammetterà che queste donne erano soltanto uno schermo cioè delle diciamo delle maschere dietro cui si nasconderebbe comunque Beatrice come vera destinataria era un modo secondo Dante che mente sapendo di mentire per evitare che le malelingue dei curiosi si concentrassero su Beatrice in realtà non è così come dicevamo si tratta almeno nelle petrose nelle rime petrose dedicata ad una donna appunto dura come sdegnosa come potrebbe essere sdegnoso un sasso al di là di questo anche sappiamo che anche durante l'esilio Dante scrisse per un'altra almeno un'altra donna non identificabile con Beatrice stiamo parlando della cosiddetta canzone montanina morda che convien pur chio mi doglia che è stata ispirata da una donna che incontrata dal poeta durante l'esilio nel casentino sulle rive del dell'Arno e passiamo poi a saperne cercare diciamo di capirne un po' di più comprendere un po' di più invece su quello che De Jure a livello ufficiale fu l'unica donna l'unica moglie di Dante Alighieri e cioè Gemma Donati naturalmente quello di come abbiamo detto in apertura quello che delinea Dante nei confronti di Beatrice è un amore letterario che è molto diverso da quello che lo legò semmai ci fu un sentimento perché sappiamo che nel tredicesimo secolo insomma i matrimoni erano combinati lo vedremo nei confronti appunto di Gemma Donati sulla quale in pratica vige un estremo silenzio non viene mai menzionata nelle opere di Dante Alighieri chi era? Costei cosa ne sappiamo a livello storico? beh, intanto Gemma Donati figlia di Sermanetto era parente cugina dei più noti Corso il leader dei Guelfi di Partenera e di Forese che è protagonista delle tenzoni poetiche con Dante Alighieri e di Piccard sorella di Forese e di Corso che è una delle figure più note nell'ambito dei Beati del Paradiso sappiamo che verso il 3283 e il 1285 per via di un matrimonio naturalmente combinato sposò Dante Alighieri era tradizione diciamo era consuetudine che questi matrimoni combinati avvenissero tra famiglie di opposti schieramenti politici Dante che come sappiamo era schierato politicamente con i bianchi di Vieri dei Cerchi in questo caso sposa una diciamo una fanciulla appartenente alla fazione nera la fazione dei donati fanciulla che gli diede almeno tre figli probabilmente quattro se Giovanni appartiene diciamo ai Giovanni Alighieri di cui esiste qualche traccia documentaria appartiene apparterebbe quindi in questo caso il condizionale d'obbligo ai figli di Dante sulla la critica diciamo sulla fortuna o meglio sulla sfortuna critica di su Gemma pesa soprattutto il trattatello il il laude di Dante scritto da Boccaccio in cui emerge una una sorta di ritratto impietoso di Gemma Donati anche perché quando il Boccaccio scrive questo trattatello che poi più che una biografia è una geografia nel senso che ormai Dante pur non essendo morto da tantissimi anni è comunque già una una leggenda già una stella all'interno del firmamento poetico dell'epoca ormai diciamo a beneficio del pubblico si è cristallizzato diciamo l'amore immortale tra Dante e Beatrice quindi faceva buon gioco per il Boccaccio in veste appunto a geografica nella nella necessità diciamo di alimentare questa leggenda dell'amore immortale tracciare un ritratto molto molto diciamo come dire negativo critico di Gemma di Gemma Donati e in effetti se noi leggiamo appunto il trattatello il laude di Dante notiamo che Boccaccio scrive che Dante addirittura fu costretto a sposarsi dei suoi parenti soffrendo poi dovendo dovendosi adattare diciamo a una sorta di matrimonio prigione che poi è il destino comune secondo Boccaccio di tutti i filosofanti cioè gli uomini di ingegno inoltre secondo Boccaccio Dante e Gemma non si incontrarono più dopo che Dante andò in esilio si tratta di ricostruzioni che possiamo definire alquanto fantasiose sicuramente il matrimonio fu combinato ma va detto che fu dal punto di vista di Dante si trattò di un matrimonio meramente prestigioso perché Dante non si arricchì con la dote di Gemma che fu una dote di ammontante a 200 fiorini piccoli quindi assolutamente non una cifra ingente e quindi diciamo sicuramente ecco il matrimonio fu combinato ma non ci sono altri elementi per poter affermare che si trattò di un matrimonio felice o infelice quindi non abbiamo elementi per giudicare la vita matrimoniale di Dante così come non li aveva boccaccio ma sappiamo dai documenti che sono imparziali sono dei documenti di archivio dei documenti notarili che Dante intrattenne sempre dei rapporti ottimali con la famiglia della moglie sia prima che dopo l'esilio in particolare Sermanetto suocero di Dante padre di Gemma risulta molto spesso come malevadore cioè come garante di prestiti anche onerosi che Dante e il fratello Francesco che non versarono mai in buone acque dal punto di vista finanziario dei prestiti appunto che i fratelli Alighieri diciamo vennero concessi ai fratelli Alighieri prima dell'esilio di Dante e sappiamo anche che Dante tratta sostanzialmente molto bene la famiglia Donati nonostante appunto Corso Donati fosse il principale nemico diciamo a livello politico della Lighieri e inoltre dei documenti d'archivio Gemma Donati emerge come una donna sicuramente combattiva che dopo che sicuramente dopo l'esilio del marito dovette occuparsi dei figli finché fino al compimento della loro maggiore età dopodiché anche i figli maschi di Dante come il padre subiranno diciamo saranno costretti ad abbandonare Firenze sappiamo da documenti d'archivio da documenti notarili che tentò a più riprese di rientrare in possesso della dote a beneficio suo e naturalmente dei propri figli che muore sicuramente prima del 1343 quando diciamo momenti in cui risulta defunta dalla documentazione ora mi piacerebbe concludere questo breve storytelling con diciamo una considerazione che per quanto mi riguarda personalmente la figura di Gemma Donati ha sempre diciamo testato in me una certa una certa simpatia perché sicuramente è una figura molto diversa dalla da questa bellezza eterea da questa donna bianco vestita che altrui saluta mi riferisco a Beatrice ma mi piace pensare che Gemma fosse e soprattutto dietro il silenzio su Gemma si cieli in realtà una donna con gli attributi che al di là delle trasfigurazioni letterarie diciamo regge con la sua combattività con la necessità di gestire il focolare domestico soprattutto in cattive acque economiche dopo che Dante venne esiliato da Firenze occupandosi dei figli fino al compimento della della maggior età e in qualche modo ecco ci pare ecco una donna molto più reale nonostante questo scomodissimo paragone con Beatrice perennemente cucito addosso io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento al prossimo video vi ricordo qualora ecco questi video vi stessero piacendo di lasciare un like condividere o eventualmente iscrivervi al canale vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie grazie